Procede senza sosta il lavoro dei volontari presso lo sportello di assistenza e ausilio ai profughi ucraini e a quanti sono disponibili ad accoglierli. L'iniziativa è stata promossa dall'amministrazione comunale di Agropoli su impulso dell'assessorato alle politiche sociali e verrà garantita per tre giorni a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12. L'ufficio si occuperà di all'accoglienza, di assistenza alla compilazione della modulistica necessaria per il soggiorno e l'ospitalità in città, di assicurare aiuto per ogni bisogno primario di natura medica, alimentare o di altro genere. Siamo con Olga Iegorova che sta dando una grande mano per quanto riguarda l'accoglienza delle donne ucraine che sono giunte nella città di Agropoli. Come procede? Quante donne, quanti bambini sono arrivati fino ad ora ad Agropoli? Prima di tutto vorrei ringraziare a nome di tutta la comunità ucraina, gli italiani, le amministrazioni locali perché veramente stanno dando una grandissima mano e c'è tantissima solidarietà. Noi ci siamo attivati volontariamente, io ho un'associazione e sto prestando la mia persona qui per registrare i profughi perché naturalmente molti arrivano senza un documento estero ma con documenti completamente in lingua ucraina, quindi la difficoltà è enorme per la registrazione. In questi giorni, in queste prime tre settimane saranno arrivate più di un centinaio di persone solo ad Agropoli, non oso immaginare quanti sono nel Cilento. Quindi stiamo cercando anche di creare rete, magari collaborare, cooperare anche con le amministrazioni degli altri comuni per dare una mano. Presso lo sportello comunale è stata attivata anche una banca dati delle famiglie ucraine già presenti sul territorio e di quelle disponibili ad offrire accoglienza ai profughi ucraini. Costituita inoltre una rete solidale composta da personale del Comune e delle associazioni che sarà deputato ad offrire la necessaria assistenza agli ospiti ucraini presenti sul territorio come consegna di pacchi alimentari, spesa, farmaci ma anche ausilio per visite e controlli medici. È importante capire che il decreto in Italia per la protezione temporanea ancora non è uscito quindi queste persone non devono affrettarsi a correre in questura, a chiedere un rifugio oppure lo status di profugo perché ancora il decreto non è uscito. Quello che possiamo fare, che stiamo facendo è la registrazione, cioè queste persone rendono noto al Comune in cui sono arrivati la loro presenza attraverso un documento che si chiama dichiarazione di presenza. Chi li ospita, chi li accoglie deve compilare e firmare un documento che si chiama dichiarazione di ospitalità. A questi documenti ovviamente vengono allegati le fotocopie dei loro documenti, la fotocopia di un contratto di locazione e poi vengono passati alla pulizia municipale che poi li spedirà in questura. Dopodiché è importante un altro passaggio, cioè recarsi all'USCA e fare un tampone per il Covid. Dopo che hanno ottenuto il risultato possono chiedere il codice STP che è una specie di protezione medica temporanea, protezione sanitaria temporanea.